No, i tempi non sono ancora pronti e in tanti infederanno ad un palo il tuo respiro ed in silenzio tutti avranno il capochino. Con queste parole ti uccideranno e uccideranno anche coloro che seguiranno le tue tracce perché l'uomo ha paura di scorrere il proprio destino e tutto ciò che illumina il capo. Grazie.